eccoci qui arrivati a borghetto borghetto santo spirito io volevo vedere il mare per cui siamo venuti a fare la passeggiata sul lungomare adesso è un po deserto perché non è estate chiaramente ecco qua abbiamo il nostro gallo e il nostro papà del gallo buongiorno buongiorno ciao gallo ciao galletto ciao chi letta akira un saluto per la stampa ciao ecco qua qua ci sono le palme che sembra di stare un po le maldive in realtà è un po nuvoloso il tempo però ottiene e comunque il clima è abbastanza nita c'è un po di vento però si sta bene al mare si sta sempre bene